ancora Fiamme Oro con il grabber di Filippo Di Marco ma la palla è recapitata a Davide Farolini che contraattacca scaricando su Dan Newton che non ci pensa due volte, vede la formazione delle Fiamme Oro scoperta e con un calcio molto ben eseguito ricaccia indietro la formazione delle Fiamme Oro, esattamente attenzione perché gioca velocemente, è buona questa palla per Denis Maestorovic siamo a ridosso di una dote c'è